Rieccoci, buonasera a tutti, ben ritrovati, siamo al giorno 87 del percorso di 100 giorni con la doc Giulia, siamo praticamente agli sgoccioli. Stasera ti vorrei parlare del puzzle della salute. Come tutti i puzzle la salute è fatta da tanti tasselli che incastrati l'uno nell'altro hanno un senso. E magari messi da soli uno non capisce il significato. Ad esempio l'alimentazione, l'orario in cui mangiarlo, cosa mangiarlo, cosa associare, con quale frequenza settimanale l'alimento lo puoi mangiare, oppure frequenza ogni 15 giorni, oppure una volta al mese. Dipende dalla tua età, dalle tue patologie e in quale momento della tua vita.